Nel Napoli è distante anche un po' complice, il terreno del gioco, perché ha fatto il ribalzo, anche un po' strano, però questo ragazzo quando li lascia non ha spazio ancora, vorrei che qua tutto il tempo da comunarci, poi questo ribalzo ha passato in conclusione anche il portiere del Napoli. Bellissimo, guardi io. Anzi però lei ha raggiunto due gol.